In Liguria quasi due imprese su tre nel settore dei trasporti sono artigiane, ma il settore vede una profonda crisi. Si tratta di 1.360 micro e piccole imprese artigiane del settore su un totale di 2.222. Il calo è stato del 5,6% nell'ultimo anno. Lo evidenzia la Confartigianato Liguria sottolineando come il settore sia in forte difficoltà e con molte problematiche e attenda forti risposte dal nuovo governo. Secondo gli ultimi dati di Istat, il settore ha accusato un forte calo nel giro dell'ultimo anno a livello nazionale. Anche la Liguria non è rimasta esclusa da questo trend negativo. A Genova, dove si concentra una maggior parte di imprese di trasporto merci, il calo è stato del 2,2%, 32 imprese in meno, mentre tra le micro imprese artigiane la riduzione è stata del 5,5%, meno 47 in realtà. Nel Savonese si contano 318 realtà totali, diminuite del 4,8% in un anno, meno 16 imprese. Le artigiane sono 239, rappresentano ben il 75,2% del settore in provincia e sono calate del 4,8%, 12 micro imprese in meno. Alla Spezia il trasporto merci conta 252 imprese, diminuite del 4,5%, 12 in meno nel giro di un anno. L'artigianato rappresenta il 69,4% del totale, 175 micro imprese, diminuite del 4,4% nell'ultimo anno, perse 8 realtà. Infine a Imperia sono 249 le imprese del settore e si sono ridotte del 4,6%, meno 12 imprese. E anche in questo caso le realtà artigiane sono oltre la metà, 54,2%, 135 diminuite dell'8,8% in un anno, perse 13 micro imprese.